ok altri 12 mila euro presi perfetto ora andiamo in farm ok certo ragazzi che da fare puntate in multi e fare puntate da solo ci passa veramente una gran bella differenza veramente in multiplayer tutta un'altra storia peccato che stasera come vi dicevo prima per una storia ho parlato erano tutti impegnati io già avevo rimandato la registrazione infatti ho saltato lunedì questa puntata qua uscirà di martedì o mercoledì quindi se voi la state guardando subito appena pubblicata nel giorno della pubblicazione per voi dovrebbe essere martedì se non addirittura mercoledì quindi vuol dire che la puntata del lunedì è saltata perchè appunto tra una cosa e l'altra non ho avuto il tempo di registrare allora voi ci siete anzi tu ci sei guarda qua che montagna di cippato che dobbiamo vendere scendiamo andiamo dal nostro amico qua davanti vediamo se l'altro già mi segue e cambiamo ste marce dai su oh finalmente cominciamo ad andare un po' adesso la il nostro amico ci avrà lo stesso problema o riuscirà a cambiare la marce ma sembra che si sia ripreso ok allora via tutto sparato il nostro amico arriva vediamo se adesso con il cippato abbiamo lo stesso problema che col compost ma non credo non dovremo avere di nuovo di questi problemi aspetta che mica è qua che devo girare e poi vedrete ragazzi nella nuova mappa come mi perderò la grande perchè comunque è grande quanto questa quindi bella estesa il che rende anche un'altra cosa che è molto più importante è un po' realistico è necessario comprare i pianali e i carelloni per trasportare poi i macchinari per le barbabietole per le patate quindi insomma dovremo sfruttare a pieno un po' tutti i mezzi e poi comunque sia non è detto che nel tempo non facciamo magari un altro trasferimento non si sa mai magari esce un'altra mappa che ci interessa di più ovviamente la serie italiana la serie italiana dove un po' alla volta cercheremo di renderla sempre più italiana mano a mano che escono le mod quindi mano a mano che esce una mod che può sembrare che può sembrare che è italiana come marchio noi l'andremo a sostituire ai veicoli che stiamo usando che useremo anzi perché per adesso non stiamo facendo niente perché non c'è ancora niente li andremo a sostituire ai veicoli in uso e così faremo diventare la serie di terra italica sempre più italiana allora andiamo ad agganciare qua tac oh guarda che sta già prendendo il cippato allora andiamo avanti portiamoci fino a dove è necessario diciamo che qua è già perfetto tiriamo su bene il nostro nastro trasportatore che così siamo già al massimo mettiamo sotto il primo carro e poi magari con il new holland ci agganciamo il carretto piccolino così andiamo a scaricare due carretti alla volta allora se Dio vuole facciamo lo scarico del primo carro e poi ci vediamo direttamente a cippato venduto quindi andremo poi a guadagnare teoricamente un bel po' di soldi perché venderemo tutto quel cippato lì ce n'è veramente una botta allora finchè lui carica lì noi andiamo a prendere l'altro perché morchetto guarda 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 che retromarcia rapida aspetta questo ha il vediamo se lo prende beh mi devo mettere bene ok così dovremmo esserci buono eccolo qua ci mettiamo in coda mettiamo già la follow me lui ancora lì che carica F formi attivo intanto che carica noi andiamo a vedere a quanto viene cippato quanto viene pagato il cippato che cippato ce l'abbiamo qui vedete che è in offerta a 408 euro a quintale diciamo quindi a metro cubo ogni mille litri quindi non non quantità stratosferiche poi sono indeciso se tornando indietro fermarmi a vendere quel carrettino di piccolo e comprarne uno di questi qua un altro grosso così per riuscire a vendere più facilmente ma poi non vorrei avere carri troppo grandi e nei salitoni che dovremmo affrontare nella nuova mappa non farcela più a venire su dalle salite perché vi garantisco che avremo dei salitoni niente male bella madonna va bene avere rapporti corti però porca miseria vediamo ok fermati qua perfetto aspettiamo il carico anche di questo comunque veramente va proprio piano 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 un asset esportatore 3 3 4 5 6 siamo sui 150 litri al secondo quindi nella realtà di fatti è un tempo giusto però comunque volevo capire qua non ho il plane dinamico come mai qua non ho il plane dinamico e qua si qua qua insomma si qua si qua c'è il plane dinamico qua no buh sarà che forse con la follow me risulta un po' come se fossimo i multi e e togliere animazione non lo so allora da qua per andare alla segheria dobbiamo fare un gran 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 bel giro quindi io direi che vi posso tagliare tutta la strada perchè ci metterò un po' andare la e ci vediamo al punto vendita ok ragazzi eccoci arrivati anche alla segheria ovviamente un rimorchio l'ho perso per strada quindi sono dovuto tornare indietro per riprenderlo qua follow me e e gearbox non vanno molto d'accordo insieme quindi vabbè mi farà bisticciare un po' per per riuscire diciamo a vendere il tutto allora lato scarico è giusto scaricare a sinistra perfetto perfetto quindi vai inutile dire che rende di più il compost perchè qua col carattino qua abbiamo fatto 3.266 anzi adesso vediamo con l'altro quanto facciamo perchè prima vendendo il compost un rimorchio di questo rendeva 56.000 euro invece adesso vediamo che cosa rende ok elettromarcia guarda che ce la fai un po' fatica ha dovuto mettere le ridotte ok vendiamo anche questo allora con un rimorchio di questi a fronte dei 56.000 euro col compost vendendo cipatto guadagniamo 8.500 euro una differenza direi notevole ok ragazzi allora vado avanti a vendere cipatto e ci vediamo quando ho finito di vendere tutto per i saluti finali bene bene ragazzi allora come potete vedere il nostro il nostro deposito di cipatto tra virgolette comunque sotto il capanno non c'è più niente abbiamo venduto tutto ironia della sorte vi faccio vedere una cosa allora abbiamo alla segheria il cipatto in vendita a 410 euro anzi ce lo comprano a 410 euro al sell point che è diciamo il punto vendita che abbiamo piazzato appositamente per il cipatto era venduto a 489 euro quindi ho venduto un sacco di cipatto a 410 euro quanto potevo vendere a 489 ne ho venduto un po' a 489 un po' alla volta il prezzo è sceso adesso conviene andare alla segheria e quindi andiamo a vendere tutto quanto alla segheria ora siamo qua in compagnia anche del mio del mio amicio amicio perchè è il mio gatto quindi il mio amico gatto che adesso se n'è andato ha deciso di scendere praticamente la sua passione è stare seduto sopra il mouse mentre gioco col computer quindi voi potete anche immaginare che avere un gatto sul mouse mentre gioca col computer diventa un po' scomodo però finalmente si è deciso di lasciarmi pace è andato a farci un diretto meno male allora un'altra cosa che vi volevo dire prima di chiudere intanto come potete vedere siamo arrivati a mezzanotte e 42 minuti ormai quindi la vendita del cipatto in solitario è stata abbastanza lunga i cereali non li vendiamo perchè nella mappa dove ci trasferiremo avremo già dei dei depositi con dei vari tipi di cereali già forse addirittura ne avremo di più di la rispetto a quelle che abbiamo attualmente su questa mappa quindi per compensare per parificare la cosa non vendiamo i cereali ma ci riteniamo qua una cosa che sarebbe rimasta da fare per come dire per lasciare in buone mani e per fare bella figura con il nuovo proprietario sarebbe quello di fertilizzare il campo di mais dovremmo dargli il terzo stadio di fertilizzazione però dai ci perdonerà lasciamo stare visto che ormai è luna meno un quarto direi che non è il caso di mettersi a fare anche quel lavoro per poi abbandonare la mappa e anzi sapete che vi dico visto che è l'ultima volta che giochiamo su questa mappa qua facciamo la trasgressione facciamo un po' di off road non serviamo la strada tagliamo un po' per una volta mi perdonerete anche voi ecco tutta la puntata è già abbastanza lunga quindi non è il caso di trovare scuse per allungarla ulteriormente ma andiamo a farci la vendita di questo carretto qua vediamo a quanti soldi arriviamo che più o meno arriviamo attorno ai 210-211 mila euro se non sbaglio perché dovrebbero essere 5-6 mila euro a carrettino poi dipende dal dal prezzo di vendita perché qua sapete che man mano che vendete il prezzo sale e scende continuamente ok ce l'abbiamo fatto finalmente mi allargo troppo poi non ci passo più ok perfetto tasto I scarichiamo, spegniamo tutto tanto lasciamo tutto qua dietro le quinte metto tutto a posto eh no non facciamo 6 mila euro ma ne facciamo 9 mila dovrebbe essere 8.622 si 6 mila era con l'altro carrettino più piccolo ok ragazzi allora la serata è stata proficua siamo arrivati a superare per 214 mila euro salviamo per non sbagliare perfetto noi ci vediamo nella tredicesima puntata della serie Fonzi speriamo in multiplayer e sulla nuova mappa sulla Kiffauser come cavolo si chiama c'è un nome strano tedesco e ovviamente già non parla quasi bene l'italiano figuriamoci se parlo tedesco ci vediamo ragazzi nella puntata 13 della serie Fonzi ciao ciao